Il senatore Petrocelli ha chiesto l'autorizzazione, prego, a svolgere la relazione orale. La ringrazio, Presidente. Questa ratifica riguarda un DTL che serve ad eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali con protocollo. Il provvedimento che esaminiamo intende porsi come aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi e ne adegua quindi le disposizioni ai più recenti standard internazionali, in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e quindi è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evazione fiscale internazionale. Questo accordo si compone di 30 articoli e di un protocollo e, una volta entrato in vigore, lo tendo a sottolineare, consentirà alle imprese italiane di operare nella Repubblica Popolare Cinese in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei ed inoltre consentirà agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Si tratta, come sempre, di un disegno di legge che si compone di quattro articoli e, con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 13.353.000 euro a decorrere dal 2021. Non presenta anche questo profili di incompatibilità né con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione Europea né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. La ringrazio, Presidente. Grazie.